Anticipazioni tempesta d'amore. Martedì, 16 febbraio, 2021. Karl Kallenberg è distrutto, e non sa più di chi fidarsi. Alphonse, ha perso accidentalmente le chiavi, e senza in alcun modo scoraggiasi, prende in prestito un metal detector, ed inizia a cercarle. Purtroppo, nonostante gli innumerevoli sforzi, le chiavi sembrano sparite nel nulla. Tuttavia, riesce ad entrare in possesso di tanti altri piccoli tesori, e scopre così, un nuovo appassionante hobby. Rosalie, si arrende, e promette ad André, che riavrà tutti i suoi mobili. Quindi, dice a Michael, che tutto tornerà come prima, ma lui, chiarisce, di non volere più il suo mobilio. Cornelia, intanto, è al settimo cielo, quando Werner ritira l'avviso. Felicissima, la donna propone nuovamente a Robert il suo progetto, inerente l'hotel biologico. E dice, di avere già in mente come procedere, a livello finanziario. Il Salfield, espone il tutto a Werner, che appare molto contrariato. Christoph, promette a Karl, che farà sparire le prove contro di lui, se riuscirà ad ottenere, tutti i soldi, che gli ha ingiustamente sottratto Arian. L'uomo, è titubante. Alla fine, il Salfield riesce a convincerlo. Grazie. 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 Grazie.